Si è riunito stamattina a Cagliari il Comitato di Sorveglianza del POR FES del 2014-2020, presieduto dall'assessore della programmazione Raffaele Paci. Ai lavori sono intervenuti il rapportero della Commissione Europea per la Sardegna, Silvia Rescia, l'autorità di gestione Graziella Piso e i rappresentanti dell'Agenzia per la Coesione Territoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. All'ordine del giorno del Comitato, il punto sull'avanzamento della spesa dei fondi in vista del primo obiettivo fissato all'Unione Europea per il prossimo dicembre. Mi pare che stia andando bene, c'è una buona qualità della spesa, tutte le risorse sono state programmate e tutti gli uffici della Regione e degli altri enti coinvolti sono in pieno lavoro. Ci sono dei ritardi, ma noi siamo convinti che riusciremo comunque a raggiungere i target di spesa entro la fine dell'anno. Sono legati alla burocrazia eccessiva. Per fare una qualunque piccola opera pubblica in Italia ci vogliono anni e anni tra codice degli appalti, valutazione di impatto, i ricorsi al TAR che le imprese fanno. Insomma, è davvero difficile realizzare le opere che ci servono e quindi dobbiamo semplificare. Noi come Sardegna facciamo quello che possiamo, ma è necessario assolutamente un cambio di passo da parte del sistema Italia.